L'avete sentito dal Tg1 all'alba del quinto giorno dopo ore e ore di intense trattative e di battaglia con i paesi del nord, l'Olanda in testa che voleva limitare gli aiuti a fondo perduto con i veti sui progetti di singoli paesi, Alessandro allora c'è finalmente l'accordo per far ripartire l'economia dopo la pandemia, dicevamo una svolta senza precedenti, il recovery fund da 750 miliardi di cui 390 miliardi di sussidi e 360 miliardi di prestiti diretti agli stati. Davvero un accordo definito storico su cui molti non avrebbero scommesso fino all'ultimo minuto. Allora ne parleremo col direttore di Repubblica Maurizio Molinari, ma intanto torniamo subito dall'inviato a Bruxelles che si è fatto tutte queste ore, queste giorni e queste notti, Roberto Chinzari del Tg1. Ti abbiamo sentito Roberto poco fa dare in sintesi i risultati di questo storico accordo, io ti chiederei anche di raccontare un po' come ci si è arrivati e poi i commenti che sono arrivati subito dopo a cominciare dal Presidente del Consiglio Conte. Sì, ci si è arrivati, è stata una trattativa molto dura e tante volte è stata anche sull'orlo del fallimento, insomma c'è stata anche molta determinazione a voler mantenere tutti al tavolo e cercare di uscirne poi come alla fine se ne è usciti, tanto che poco fa anche il Presidente del Consiglio europeo, Michel, ha parlato di un'intesa che sembrava impossibile e poi ce l'abbiamo fatta, l'Europa è più forte, è più unita, è soddisfatta anche Ursula von der Leyen che parla anche a lei di giornata storica, quindi fondi senza precedenti, ovviamente sono tutti soddisfatti, Macron, Merkel che parla di nuove prospettive, il Presidente del Consiglio Conte ovviamente è anche molto soddisfatto. Sono state giornate difficili in cui si sono anche un po' confrontate, non solo le esigenze dei cosiddetti paesi frugali che hanno fatto quasi una minoranza di blocco nei confronti della gran parte dei paesi mediterranei ma anche dell'Europa, insomma anche della Germania e della Francia e dall'altra parte anche si è un po' confrontato una visione più comunitaria, più legata all'istituzione europea e un'altra più intergovernativa, un po' più legata anche agli interessi nazionali magari anche sull'immediato con tante esigenze anche di carattere politico interno, ma alla fine insomma sembra che ce l'abbiamo fatto e ce l'abbiamo fatta, ricordiamo rapidamente anche i conti, nel senso questi 750 miliardi che restano del Next Generation EU che include il Recovery Fund, scendono la parte dei sussidi a fondo perduto, aumentano i prestiti però questo non per l'Italia che ha alla fine gli stessi sussidi e aumentano invece i prestiti di 36 miliardi in più che più o meno sono gli stessi per l'altro del MES e questo infatti fa dire al Presidente del Consiglio la priorità è il piano, il Recovery Plan, approvato tra l'altro anche il bilancio pluriannale, 1.074 miliardi tornando all'Italia, un'altra cosa da dire, abbiamo chiesto appunto se questo risultato rafforzava il Governo rafforzava la sua capacità di agire, ha detto Conte, infatti adesso la possibilità di far ripartire, ha detto cambiare il volto all'Italia rendere più verde, più digitale, insomma riuscire a rendere concrete quelle riforme che sono state anche proposte con il piano rilancia lo studiato a Villa Panfili e proprio per questo in questi giorni ci sarà anche una task forse operativa proprio per rendere concrete questi progetti Alessandro, Barbara, a voi Grazie Roberto, grazie anche veramente per il grosso lavoro, il racconto che hai fatto in questi giorni In questi giorni, aver seguito da vicino tutte queste giornate così intense di trattative Allora andrei subito dal direttore Maurizio Molinari, lo ricordiamo, 750 miliardi di aiuti del Recovery Fund sono sicuramente, lo diciamo da stamattina, un risultato storico Possiamo dire che le pretese dei paesi del nord, i cosiddetti paesi frugali guidati dall'Olanda ecco, le loro pretese sono state in qualche modo ridimensionate Sicuramente è un risultato importante per l'Unione Europea che riesce a unirsi sul tema degli aiuti anti-Covid a dispetto dell'opposizione dei paesi frugali Sicuramente è un successo personale di Angela Merkel che guida il semestre di turno a guida tedesca e si è trovata di fatto sfidata dai paesi del nord su posizioni ultra rigoriste è un successo del Presidente del Consiglio italiano che torna a casa con un montare di aiuti nel complesso e prestiti superiore a quello con il quale il summit era iniziato però attenzione perché i paesi frugali sono riusciti ad affermare loro stessi come blocco unito all'interno dell'Unione forse questa battaglia pensavano di finirla in maniera diversa sicuramente non hanno ottenuto tutto quello che volevano ma hanno affermato la loro esistenza come interlocutore politico è legittimo quindi presumere che li ritroveremo sul cammino dell'Europa Maurizio, direttore, ciao intanto però è stata bloccata loro la strada nel senso che non c'è potere di veto nessun singolo paese può sindacare su come l'Italia e gli altri paesi spenderanno i soldi lo può fare il Consiglio ma soprattutto la Commissione quindi è tutto tornato diciamo nell'alveo che l'Italia auspicava tu però dici ci può essere un futuro di contrapposizione tra i 27? io credo che la vera novità è che i quattro paesi hanno svitato ha volto aperto la Germania questo è stato il fatto che nessuno si aspettava non solamente l'Italia ma neanche la Francia e la Germania se Macron a un certo punto ha fatto accendere i motori del suo aereo minacciando di andarsene se la Merkel ha avuto questi incontri a ripetizione con la van der Leyen e anche con Conte è perché nessuno si aspettava che Olanda, Danimarca, Svezia e Austria riuscissero anche a reclutare la Finlandia di agire con un blocco, con un'aggressività che neanche la Gran Bretagna in passato aveva mai avuto hanno aperto sicuramente questa battaglia si aspettavano probabilmente di più ma hanno affermato la loro esistenza come blocco e chi conosce i meccanismi dell'Unione Europea sa che questo scontro oramai è solamente l'inizio l'Unione Europea ha un nuovo soggetto i paesi frugali protagonisti di un rigore addirittura più rigido di quello dei T-Disc e naturalmente poi ci saranno le elezioni in alcuni di questi paesi e vedremo che riflessi avranno grazie